Voglio solo sapere perché è morto. Grandi cambiamenti nella seconda stagione di Trust Me. Jodie Whittaker, volto simbolo della prima annata, ha lasciato la serie e il cast è stato rinnovato. Restano intatte l'ambientazione ospedaliera e la voglia di esplorare il lato oscuro della medicina. Protagonista è ora Jamie McCain, caporale dell'esercito che durante una missione subisce una lesione alla colonna vertebrale. Ricoverato nel reparto di neurologia del Glasgow Hospital, l'uomo deve combattere con il dolore e le paranoie. Alcuni pazienti, infatti, muoiono in circostanze misteriose e McCain dà avvio a un'indagine che condiziona la sua salute mentale. Thriller medico ad alta tensione, Trust Me, alimenta sospetti e misteri. Scritta e diretta con cura, la serie gioca sul non detto evidenziando i turbamenti del protagonista, un ottimo Alfred Enoch, già apprezzato nella saga di Harry Potter. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!